Abbiamo portato in fiera il simulatore Vortex che dà la possibilità di fare un training sulle macchine di cantiere. È particolarmente importante e innovativo perché permette di attrarre giovani leve e anche di costruire e migliorare la carriera professionale di addetti già inseriti nel settore. In quanto attraverso le esercitazioni vengono rilasciati dei report che permettono di valutare l'avanzamento di carriera e delle competenze. Il simulatore è particolarmente green, non c'è assolutamente nessun consumo, è flessibile in quanto il docente può adattare in base al livello di partenza di ciascun candidato le prove, permette di andare al campo prove e acquisire il patentino e una cosa a mio avviso molto interessante è che si lavora a livello di prevenzione e sicurezza in quanto con il simulatore riusciamo a simulare anche delle situazioni estreme che si auspica, non capitano mai in cantiere ma comunque riescono a dare la misura di quello che può essere l'intervento e come trovare il modo di riuscirne in alcune situazioni di impasso. Gli scenari che si possono provare con il simulatore sono molteplici, non solo dal punto di vista dei macchinari ma dal punto di vista anche degli agenti atmosferici, ad esempio possiamo provare il simulatore con il vento, con la pioggia, con la neve, al buio.